San Daniele, il San Daniele, uno dei prodotti di assoluta eccellenza della regione, diciamo che il San Daniele accanto al vino sono i due prodotti agricoli che maggiormente fanno parlare di loro nel mondo e che hanno conquistato veramente molti molti mercati, grazie a loro anche gli altri prodotti possono seguire. Il mio braccio destro è appoggiato a un gioiello che è la Berkel, la Berkel è la fettatrice ideale per il San Daniele, molti sono i restauratori, l'azienda è chiusa, non produce più e quindi si recuperano queste macchine un po' dappertutto, ci sono diversi artigiani che le producono, uno è a San Daniele e Candusso, diversi restauratori, uno è a Melles che si chiama Mirko Snyder, ma parliamo del prosciutto e parliamo di un'azienda che ha aperto una nuova strada a San Daniele che è quella di Carlo Dallava che per primo ha intuito che il prosciutto dovesse essere invecchiato o stagionato molto più a lungo, lui ha fatto una scelta radicale diversi anni fa, ha abbandonato la grande distribuzione, ha fatto solo una scelta di nicchie come San Daniele dovrebbe essere e ha spostato l'invecchiamento dai 9 poi ai 12 adesso ai 16 mesi, arrivando fino ai 48 mesi che vuol dire 4 anni. Il San Daniele come invecchia e come i grandi vini, migliore, migliore nel sapore, migliore nel profumo, proprio questi prosciutti più invecchiano e più devono essere tagliati non con la fettatrice ma con la berca, la fettatrice è ideale per i prosciutti fino ai 16-24 mesi, il vantaggio di questa macchina è che ha la rotazione a giri molto bassi per cui non brucia il profumo del prosciutto, tanto è vero che quando vi taglio il prosciutto molto veloce con la fettatrice, sappiate che perde un 20-30% di profumo perché i profumi vengono bruciati dalla velocità della lama. Ma torniamo a Doc Dallava, l'altra grande innovazione oltre che quella dell'invecchiamento è di fare entrare costantemente il consumatore, di coinvolgere il consumatore nelle produzze, tanto è vero che nel nuovo stabilimento dove è aperto la prosciutteria che è l'altra innovazione di Carlo Dallava, il consumatore alla fine di un corridoio può guardare il prosciuttificio, la sala di stagionatura e può entrare a annusare, a bearsi, gioire di questi tantissimi profumi. Prosciutteria, concetto nuovo dove si mangia certamente pane e prosciutto ma accanto al pane e prosciutto c'è tutta una serie di prodotti e di piatti molto semplici serviti al momento, fatti con molto garbo accanto a un negozio che propone una selezione di artigiani del gusto, friulani e non. Qualche consiglio sul prosciutto, a parte con i vari abbinamenti, fichi con il verduzzo con il ramandolo, melone con il ramandolo o un goccino di porto, ma il concetto di base è il pane che usiamo, non sbagliamo il pane, il pane è uno degli elementi straordinari fondamentali della nostra cucina, deve essere un pane bianco, deve essere croccante e non deve essere molto salato, quindi è fondamentale. Quindi pane tipo baguette o grissini che poi produce sempre caro dal lava nella sua azienda la bakery dal lava che fa a San Pietro in Atisone dove ha anche una produzione di ottime gubane.